Siamo giunti a che edizione? Siamo alla quarta. Allora, questo qui è un cimento giovane, però lo possiamo chiamare il cimento del sole, perché noi abbiamo sempre il sole quando facciamo. All'altra parte fare il bagno senza il sole non avrebbe senso. È benaugurante allora. È certo, ma rappresenta quello che è il clima della riviera d'inverno, un clima mite che può avere giornate come queste qua. Soprattutto della città d'Imperia. Eh beh, la città delle 3000 ore di sole, sì. Quindi per quest'anno quanti sono stati i partecipanti? 292 partecipanti, l'anno scorso erano 278. Ce l'abbiamo fatta allora? Beh, buttavamo ai 300, adesso l'ho rinviato, diciamo. Mi fa fare un saluto a tutti gli amici di Imperia People. Vabbè, io saluto tutti e vi ringrazio per essere qua con noi a Cimente. Grazie, e alla prossima. Alla prossima. Ed ecco qua la Befana vera. Una Befana però che non dà l'idea di buttarsi in acqua quest'oggi. Come mai? Perché ne arrivo dall'influenza, sono acciaccata, sono vecchia. No, 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 non fa per la Befana il bagno. Però tutti i mali li ha portati via perché la giornata è arrivata stupenda oggi. E certo, è tutto ieri che ho pregato, sono andato in giro, ho incontrato altri bambini e adesso eccomi qua a vedere altri bambini e distribuire caramelle. Però io vedo che, non vedo Re Magi, vedo solo la Befana, vuol dire che la Befana è più forte dei Re Magi. E certo, vuoi mettere, l'acciaccata con me, vado in giro e lavoro più dei Re Magi. E allora sì, bisogna dire buon lavoro. Buon lavoro anche a voi ragazzi, ciao. Mi fa un saluto a tutti gli amici di Imperia People. Allora, amici, tutti quanti, voi che ci ascoltate, siete sempre presenti. Buona Befana a tutti. Agli amici di Imperia People. Agli amici di Imperia People. Grazie. Abbiamo un sindaco che si butta in acqua quest'oggi. Sì, mi butto perché penso che sia doveroso a farlo, poi non l'ho mai fatto, però voglio capire come funziona. Poi questa è una giornata straordinaria, come dicevo prima, solo ieri era impossibile buttarsi in acqua. Sì, era previsto, ho un bel tempo per oggi, è una bellissima giornata, Imperia è questo e altro, noi lo faremo conoscere, lo faremo sapere a tutto il mondo. Siamo in un brutto posto, proprio bagno totale oppure solamente le caviglie come fanno in tanti. No, no, cercherò di fare il bagno totale. Grazie, allora buon bagno. Questa maglietta è stata consegnata dalla città gemellata di Newport con la richiesta di bagnarla al cimento. Benissimo. Ma è una bella iniziativa, a Imperia si fa il bagno anche a gennaio. Sì, ma solo ieri era proibitivo. Eh, ma abbiamo scelto anche il giorno giusto. Quindi l'altro momento dobbiamo ringraziare la Beppano e le Magi. Tutte e due, anzi tutti e quattro. Grazie. Prego, grazie a voi. Scusi, scusi. Ma anche lei da queste parti. Prego, sì, anch'io da queste parti. Ma non fa il bagno. Assolutamente no. Due foto e basta. Ma solo foto, ma per un'occasione così fa più di una. Beh, magari più di una, però assolutamente, assolutamente il bagno mi dispiace. Ma per un'immortalatrice di Imperia come lei, come è possibile non fare un bagno oggi? Ma ho saputo che forse va anche addirittura, se ne va, ci lascia per qualche giorno. Vi lascio tranquilli per un po' di tempo, così almeno queste foto del mattino le lascio fare agli altri. Sono bellissime foto e la ringraziamo. Grazie a voi. Ucina. Assolutamente. Faccia qua. Attenzione, queste simpatiche. Vai, vai. Lecura. Non sei rapido. 5, 6, 7, vai. Costa, lo facciamo il bagno oggi? Per forza. Ma lo vengo solo con la signorina? Vediamo se vuole entrare con la signorina. Un po' bastardo. Ma non è mica spingerla? No, ma se non vuole entrare... Facciamo così, lo chiediamo a lei. Lo chiediamo a lei, dai. Come si chiama? Mia. Mia. Mia, tua. Sua. Mia. No, 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 no. Vieni qua, vieni qua, vieni qua. Vieni qui. Mia, dove sei? Mia, vieni qua. Allora, senza che mi mangi. Lo fai il bagno tu. Lo fai il bagnetto. Mia, su. Ah, fa finta di niente. Ma non è la tua festa oggi, eh. Su. Allora, un po' devi spingere, vero? Spingere, no. Devi entrare da sola. E poi vediamo. Va bene, ok. In bocca al lupo, eh. Crepi. Dove vai il bagno, te? No, lo spugno. Papà. Dov'è? Dov'è? Un altro personaggio che oggi non ha nessuna intenzione di buttarsi in acqua. Come mai? Perché mi sono dimenticato. Ma che cosa? Che c'era? Ma è vero quello che dice? Sì, l'avrebbe fatto. Si è dimenticato sul serio. Ma allora, come? Una giornata così uno si dimentica di buttarsi in acqua? Non ci credo. Sì. Era tentato di farsi portare costume da Emilio, ma... E invece? Non lo fai il bagno. Ma non posso. Io sono servizio. No, sono servizio. Non siamo ancora in tenuta d'acqua, eh. Eh no, è questione di pochi minuti, eh. No, pochi minuti per riscaldamento per entrare in abagno. Non lo so, sono appena arrivato, non so quali siano i programmi qua. Comunque, se c'è da fare riscaldamento, lo facciamo, eh. Bagno vero, totale? Ma sì, perché io vado, quando ci sono belle giornate, vado anche d'inverno, con gli amici della spianata. Bravo, in bocca al lupo, è buono per fare. Grazie. Altrettanto, saluto a tutti, ciao. Ma c'è chi può rassare, come io, eh. Scusi, ma come va? Si butta, si butta oggi. Non pensa proprio. Come mai? Perché devo presentare. Vorrei tanto, ma non posso. Devo presentare, quindi non posso. Non si può presentare in acqua. E non hanno ancora i microfoni anfibi, non li hanno ancora preparati. Comunque, bocca al lupo. Grazie, grazie, ciao a tutti. Fabrizio, 2014, ci buttiamo a bagno quest'anno. Sempre presenti, quest'anno dopo un lungo mal tempo, siamo premiati con questa giornata stupenda che ci fa, speriamo che ci faccia stare bene. Siamo qua dell'estate? Sembra l'estate, temperatura estiva, veramente. Ma quindi non ginocchia, bagno completo? Bagno completo. Adesso ci prepariamo tra poco con l'attività fisica, anche se non si direbbe dalle vacanze. Va bene, bocca al lupo, buon bagno. Buon bagno. Buon bagno, poi vieni, eh. Fai il bagno quest'oggi, no? Non ci credo. Come sempre, come tutti gli anni. E quanti anni è che lo fai? Cinque anni. Cioè sei Jerry, no? Io so Jerry, sì, quello del pronto corso, sì. Vai, allora. Ma lo fai solo o lo fai con la signorina? Da due anni c'è anche lei, Gaia, che lo fa. Ah sì, si può? Eh, lo fa? Sì, lo faccio. Ma è vero, lo fai o con le caviglie? Lo faccio. Lo fai di tutto, eh, ok. Buon bagno, lupo, eh. Ciao, ciao. Buon bagno. Buon bagno. Buon bagno. Purtroppo ho questo primato e ho fatto delle interviste per il porto, io faccio l'ingegnere, ho fatto interviste per il porto e mi hanno messo il veterano dei diportisti, ho fatto un problema per gli ascensori e mi hanno messo il veterano degli ingegneri, sono andato a Monzi a Sciare e mi hanno messo il veterano di Monzi, oggi ho quest'altro primato qua. Ma non è una condanna, è una fortuna. Eh beh, è una fortuna, preferirei, però annunciassero il mio giorno di nascita anziché quello. Comunque, come ha sentito, come ha trovato l'acqua oggi? Io faccio il bagno tutti i giorni, quindi io abito con la villa lì. Quindi non era niente di eccezionale, è solo una cosa... Giovane di quello che era! Comunque, complimenti! Grazie! 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 Ma scusi, perché lei non ha fatto il bagno oggi? Ho freddo, ho freddo! Ma freddo non ne fa per niente! Ho freddo, ho freddo! Ho freddo! Ho freddo! Un po' per no! Tattica per niente! Ho freddo, ho freddo, ho freddo! Oh freddo! P viens appellino non ne fa per niente! Ho freddo. Ho freddo! Per niente! Ho freddo. Ma freddo. Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti